La nostra azienda si occupa principalmente di coltivazione di cereali e foraggio che riutilizziamo tutto nell'allevamento di razza piemontese, abbiamo la linea vacca vitello, facciamo ciclo chiuso, abbiamo le fattrici che producono i nostri vitelli, dopodiché a seconda della tipologia di animale le femmine vengono destinate alla rimonta, quelle più portate, mentre le altre e tutti i maschi vengono ingrassati, finiti e poi mandati alle macellerie. L'agricoltore io onestamente l'ho fatto per scelta, non per obbligo e io da sempre, fin da piccolo, sono cresciuto nel lavoro che adesso faccio e i miei genitori mi hanno sempre tenuto partecipi a quel che succedeva in azienda e allo stesso tempo io ho sempre sviluppato un interesse non indifferente. Poi ho cambiato infinite volte idea perché fin da piccolo avevo l'ambizione, l'idea e la convinzione pura di avere un futuro da veterinario. Non ho fatto l'università, però ho fatto la scuola geometra, era un settore che mi piaceva. Allo stesso tempo, in modo parallelo, ho sempre mantenuto il mio ruolo in azienda, poi crescendo con l'età arrivando ad avere la patente. In azienda iniziava a esserci anche sempre più necessità perché se durante le scuole io ero classico che mi svegliavo al mattino per fare i compiti e al pomeriggio lo passavo in stalla o nei campi. Ho dovuto fare una scelta oltre che puramente professionale di vita perché si trattava, se si andava a fare una professione diversa da quella agricola, significava stare fuori 8-10 ore durante il giorno e non restava tanto tempo da dedicare all'azienda. Quindi era un po' una scelta di vita e onestamente la mia scelta è stata molto indirizzata dal voler dare continuità a quelli che sono stati gli sforzi e i sacrifici dei miei genitori e dei miei nonni. Ancora oggi le loro generazioni hanno veramente sacrificato le loro risorse per dare un futuro e quindi ho fatto questa scelta, non mi sono mai pentito assolutamente. I canoni lavorativi sono anche solo, io adesso ho 16 anni che lavoro, 17 anni che lavoro e i canoni sono cambiati moltissimo come è normale. Gli ultimi anni lavorare non basta più assolutamente, ci sono dei costi che si sono esplosi, ci sono cambiamenti geopolitici che si sono ripercossi sull'economia anche delle semplici aziende come la mia che è un'azienda familiare come tante che ha portato un'incidenza negativa che non è più quella che è normale e fisiologica. Adesso ci sono stati eventi, pandemia, guerra in Ucraina, siccità attuale che veramente sta mettendo le aziende in ginocchio. Oggi è difficoltoso. La cosa da sistemare subito è che ai nostri prodotti gli venga riconosciuto il costo di produzione. Oggi il bovino piemontese non bisogna avere paura o temere quel che si dice, ha un prezzo che due o tre anni fa sarebbe stata la nostra ambizione. Il problema è che i prezzi e i costi di mantenimento degli animali, delle energie hanno fatto oltre il 100% di rialzi, quindi i nostri incassi sono a dei livelli in cui non paghiamo i costi di produzione. E quindi se qualche anno fa poteva essere la cifra potenzialmente sostenibile, oggi non ci permette di programmare, ma quantomeno di pagare le spese. Abbiamo avuto dei costi raddoppiati se non triplicati. Comprare un prodotto che prima ci autoproducevamo è allo stesso tempo una siccità mai vista negli ultimi 100 anni. nel 2022 abbiamo pagato il triplo con cimi di serbi gasolio, le macchine agricole sono aumentate nel 40-50% nel giro di un anno e allo stesso tempo però andiamo sul mercato a comprare i stessi prodotti perché la produzione è stata praticamente nulla. È una cosa che mi si pone sovente di ragazzi che mi chiedono come si può inserirsi nel settore zootecnico. L'allevatore non si nasce ma è un lavoro che bisogna imparare, nutrire, costruire strada facendo. Io come consiglio personale prima di tutto direi di andare a vivere la situazione in allevamenti già esistenti. Io consiglio di provare a fare allevatore, valutare tutti gli aspetti sia economici che di vita. Io ho cominciato all'età di 11 anni e l'azienda di mio papà è eseguita da mio nonno e bisnonno e avevamo non tanti capi. Poi abbiamo aumentato poco per volta e finita la scuola, continuato l'azienda di mio papà. Avevamo già anche l'ingrasso e abbiamo passato al ciclo chiuso perché mi ricordo da 5 generazioni. Mi è già sempre piaciuto da piccolo fare l'agricoltore e poi ho seguito mio papà e siamo andati avanti. Poi abbiamo avuto la sfortuna che mio papà è mancato a 73 anni, io avevo 34 anni e 35, la stessa età che a Giovanni adesso e ho dovuto continuare l'azienda da solo con mia mamma e mia moglie e i tre figli piccoli. Partivo alle 30 a ricaricare le balle nel prato e venivo a casa, facevo due viaggi e poi davo da mangiare le bestie. Mia moglie mandava i bambini a scuola e mia mamma ci aiutava nella stalla. Sono contento che Giovanni faccia il mio lavoro perché abbiamo rivoluzionato tutta l'azienda e con la sua che è andato a fare il corso per fecondazione artificiale abbiamo aumentato molto la genetica e abbiamo delle bestie superiori.